Ciao, 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 Federica, Federica, ma è proprio bello, è tutta la madre, seria, ma che fate? Sì, la cura di Sarà, che tutta questa è chissà, è tutta la pelle, eh? Eh? Ci abbiamo fatto arrivare. Tutti dicono così. E' bello. E' bello. E' bello. E' bello. Ma ancora... Peppa, ma ancora Tassila che vuoi fare con te? Ancora. O sei calmata? Non mi sta a cominciare a fare una seconda. Fai ciao. E' proprio... Sempre con te? O scende, ieri tutto il giorno in cantina con me stava. In cantina? Cattina la deve... Hai riportato a te la mia idea? Ti devo dare la servia? Auggendo la servia? Uff. Ma puoi riprendere? Ma poi il padre perde il lume dell'occhio? Vero? Il padre perde il lume dell'occhio? Fai ciao. Noi vanno a fare. E' bello. E' bello. Fai vedere le cosce a Bizzio. E' vista? No. Fai vedere le cosce. Devo al po' presto. Tu padre come sta? Da pelle? Ma... Ci stavano, saranno stati sommersi.